Un italiano e due cittadini albanesi sono stati arrestati ad Ailano dei carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese, coordinati dal capitano Franceschini, quelli della stazione di Ailano, del reparto operativo del comando provinciale e il personale dello squadrone in elicottero, perché sorpresi in una piantagione di marijuana nascosta fra la vegetazione. Proprio grazie al velivolo è stata individuata la piantagione composta da 500 piante e coltivata su un'area di circa mille metri quadrati circondate da alte querce. All'interno di un casolare adiacente alla piantagione i carabinieri hanno poi rinvenuto e sequestrato 2.500 foglie di marijuana messe ad essiccare, mentre in un container sono stati trovati 300 grammi di marijuana pronti alla vendita.